Michele Cremonesi neopapà, Michele Cremonesi ritrova uno Zini completamente diverso da come l'aveva lasciato. Per me è stata una grande emozione ritornare allo Zini, l'avversario. Ho trovato uno Zini abbellito, pieno di gente. Mi fa piacere vedere l'attaccamento che c'è verso la squadra. È stata per me una grande emozione. C'era la tua famiglia a seguirti nei distinti. Sì, sono andati tutti a provare i distinti. C'era la mia famiglia, amici. Ovviamente giocavo in casa, quindi sono venuti in tanti. Ci hanno portato anche fortuna. Di questo magari non parliamo, perché a noi brucia un po' questa partita, però sei venuto in Serie B per rinforzare l'entello e per rimetterti in gioco. Tu che arrivi da due campionati vinti. Sì, assolutamente. Mi ho dato campionati vinti e poi sono riuscito a toccare con Manu questi primi sei mesi la Serie A, riuscendo a giocare qualche partita. Quindi è stata per me una grande soddisfazione. Poi quando ho capito che le cose là erano finite, avevo poco spazio, volevo rimettermi in gioco perché ovviamente un giocatore vuole giocare. E quindi sono venuto qua a Chiavari molto volentieri, una società molto organizzata, direi modello. Ovviamente gli obiettivi, vista la classifica, non sono più magari quelli di ambire all'alta promozione, però ovviamente a me interessava giocare. Sono uno che lotta, quindi per salvarsi o per vincere cambia poco per me. Intanto ti vediamo passeggiare sul lungomare di Chiavari con la carrozzina. Eh beh sì, adesso sfrutto ovviamente il bel clima di Chiavari che comunque è una cittadina veramente carina, misura d'uomo. Per me che appunto sono diventato papà da poco è ottimale. Grazie, grazie. 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 Grazie.